Il centro storico punta a rifarsi il look in vista della stagione invernale e in particolare del periodo natalizio. Un Natale che sarà di nuovo all'insegna di Pesaro nel cuore. Uno slogan coniato dall'amministrazione Ricci è che lo stesso primo cittadino ha rilanciato a meno di due mesi dalla festività dopo le celebrazioni con l'imitatore imposte dalla pandemia del 2020. Qualche anticipazione l'ha già fornita lo stesso sindaco nei suoi rinnovati forma d'ascolto ai cittadini, sindaco per i quartieri e un sindaco in famiglia tenutisi ieri sera. Qualche esempio è confermata la pista da pattinaggio in una piazza del popolo che a breve sarà sottoposta a diversi lavori ma saranno iniziative festive meno concentrate nel cuore del centro ma più diffuse fra le vie limitrofe. In tal senso in via Curiel sarà ad esempio posizionato un grande scivolo di ghiaccio dedicato ai bambini. Quest'ultima strada rappresenta proprio uno dei punti focali dei prossimi lavori dell'amministrazione che punta a valorizzare l'asse della passeggiata che da via Curiel conduce a via Passeri contemplando via delle contramine e naturalmente piazzale Lazzarini. Sarà una riqualificazione all'insegna del verde e del ripristino della pavimentazione in Porfido a Malorata. Sulla stessa via Curiel è anche in via di definizione un progetto che modificherà l'accesso carrabile al centro storico ampliando la parte pedonale. Lavoro in agenda anche su via Passeri dal rifacimento della pavimentazione nei pressi del Museo Rossini alla programmazione di un percorso pedonale protetto vicino alla biblioteca San Giovanni. Infine Rocca Costanza. Ricci ha rivelato che in via di definizione un accordo con Agenzia del Demanio, Ministero della Cultura e Archivio di Stato per una ristrutturazione complessiva della Rocca all'insegna dell'adeguamento alle più recenti normative di sicurezza in funzione di future iniziative culturali e turistiche.